Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session su Bitcoin con analisi evoluta. Sono le 23.03 di giovedì 5 ottobre e che cosa è successo? Abbiamo avuto il movimento atteso, il primo movimento atteso di salita. Abbiamo vincolato il settimo T3 inverso, che però davamo per partito qui, non per qui. Infatti, quando è arrivato questo vincolo, che cosa ho fatto nel gruppo premium? Ho detto, evitate di entrare long. Le persone saranno rimaste un attimo perplesse, ho detto, aspettate un attimo, vediamo se ci dà un ingresso migliore ma deve riuscire a non fare determinate cose. Quando poi siamo arrivati a fare questa candela rossa, ho detto, ok, c'è qualcosa che non va nella centratura. A volte le cripto fanno determinati movimenti, ma mi sono messo a cercare un movimento differente. Perché? Perché non tornava più dalla forma dei cicli, come ho scritto proprio nel gruppo premium. E quindi, noi adesso abbiamo che cosa? Quattro giorni per vedere se continueremo a rimbalzare e ritornare qua sopra oppure no. Quattro giorni è il tempo massimo a partire da adesso. Ok. E che cosa bisogna fare innanzitutto? Primo, monitorare questo minimo. Se viene violato, dura. Inizia a diventare dura perché, come vi dicevo, questo è il punto di domanda più grosso. E noi stiamo ragionando di trade nel breve per evitare di esporci nel lungo, attendendo di capire se un raccordo di grado T più 1 inverso è in essere e dovrebbe portarci qua, di nuovo qua, orientativamente. Mi vengono in mente tante cose mentre ve lo dico, cicli motore piuttosto che altro, ma preferisco rimanere a pensare sulle cose più semplici. Ok. Prima di fare questa analisi, infatti mi sono riguardato per bene anche il grafico un giorno, e cerco alternative. Anche se sono giornate abbastanza intense, perché appunto sono andato a lezione al Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino per seguire un corso che, come vi dicevo, già nell'analisi di questa mattina, è estremamente interessante. Oltretutto il professore è una persona estremamente nota in tutta Italia. Per cui, voglio continuare a fare quello che sostengo di essere da sempre, ovvero un eterno allievo. Posso sempre imparare qualche cosa di nuovo. Per questo motivo, essendo un po' cotto, mi sono riguardato tutto con calma, e per ora continuo a ragionare con tutte queste ipotesi che vedete in campo. Ok. Tutte. Assolutamente tutte. E il non andare long, quando abbiamo fatto questo movimento e poi questa candela che dopo è diventata rossa, è stata tosta perché sembrava proprio che fosse perfettamente vincolato. oltretutto, oltretutto, questa centratura che possiamo fare solo ex post, non è a regola d'arte, ok? E da questo si capisce che gli HFT stanno cercando di mischiare le carte per cercare di fregarci in ogni caso, ok? Ma non ci siamo cascati. Un tempo avremmo rischiato di entrare long qua, in rottura di questo massimo qua, sì, questo qua. Invece adesso evitiamo anche questo genere di errore, rispetto anche soltanto a sei mesi fa, l'evoluta è evoluta in maniera pesante in termini sia di risultati di trade in gain rispetto a quelli in perdita, ne vediamo pochi, statisticamente impossibile che non ce ne siano, però evitiamo anche errori grossi, per cui, tutto corretto, compresa la discesa. Ecco, sulla discesa siamo scesi tanto però, proprio tanto, qui, se tiriamo un Fibonacci, siamo scesi tanto rispetto anche soltanto a un 50%, io orientativamente mi aspettavo un ritracciamento attorno a questa zona qua, ok? Quando abbiamo iniziato ad insistere, abbiamo penetrato la media mobile a 50 aprile ed ho detto, aspetta un attimo, la centratura non è più quella che avevamo, meno male che non siamo entrati long. E non entrare long in questo caso, è vero che non è un gain, però non consuma capitale, oppure non porta ad ansia anche soltanto temporaneamente. Per quanto riguarda la centratura, non so se notate, ma con tutti questi movimenti rapidi, continuano costantemente a toglierci i riferimenti dati dagli swing, ok? Da qui abbiamo solo il tempo che ci dice che è possibile, ma non è affatto detto, manca una delle due conferme, ma è possibile che essendo già a 6 bar sopra questo minimo, quello delle 19.15, da qui stia partendo un nuovo movimento, ma abbiamo superato le 44 barre di secondo t-3, siamo a 41, rischiamo ancora di essere nel secondo t-3, che per chiudere andrebbe a chiudere anche potenzialmente un t-2, ok? Siamo finiti sotto la media mobile, sotto la cumo, non bene per un rimbalzo, non bene per quest'altra parte, ok? Questa l'abbiamo presa tutta. Siamo ritornati per qualche candela sopra i 28.000, ok? Quindi tutto come da attesa, tutto come ci si aspettava. Poi abbiamo avuto la discesa, ma non è stata una discesa piccolina, ok? Non pretendo con un grafico di essere così perfetto da raffigurare poi quello che succede, anche se è successo tante volte negli scorsi anni, perfetto era il disegno che facevo. Potete andarlo a rivedere nei video. Qui non siamo scesi poco, come era corretto fare, magari appunto fermandosi a questo livello, attorno a questo livello sopra la media mobile, che ci dice se continuiamo a salire e ci fa da supporto, oppure se iniziamo a scendere quando la passiamo, ok? Accumulazione, risalita, ci fa da supporto, no, qua no, qua siamo finiti sotto. Quindi, oltre a questo minimo, da monitorare fino alla 45esima, 46esima barra di secondo t-3, e quindi fino a che ora? Alle 45 barre, perfetto, fino alle 2.45. Per capire se da qui è partito appunto un terzo t-3 e quindi con un allarme sotto questo minimo, il suggerimento è di monitorare la media mobile, monitorare un'eventuale spinta volumetrica a rialzo per rientrare all'interno della cumo e vedere se riusciremo poi a spuntarci fuori. Da qui è evidente che comunque, eh, si sia formato, si sia formato quella cap di cui vi parlavo, quella di cui vi parlavo ieri sera, ma se l'endolo era questo è stata negata, ok? Se invece questa è parte della cap, questo è un handle molto basso e se andiamo in violazione di questo minimo e poi di questo, smontiamo la cap e quindi invece che salire, come abbiamo fatto, eh, come da aspettativa, e poi riprendiamo a scendere. Questo per ritornare alla classica analisi tecnica che è inclusa ovviamente nell'analisi evoluta. Potrei parlarvi, come vi dicevo, per anni di quello che c'è solo in questo grafico, partendo dagli indicatori, andando appunto con l'analisi tecnica, cambiando tutti gli indicatori che vedete qua. Ne tolgo, ne metto, ne aggiusto, ne guardo, cambiando tante cose, ok? E da ognuna trovando uno spunto differente per dare altre informazioni a chi mi ascolta, non opinioni, eh, attenzione, diverso. E oltretutto facendo pezzo per pezzo per dire possiamo fare anche questo genere di cose interessanti. Cinque barre, che cosa sono? Sono un t-5, ok? Chiuso un t-5 ne può partire un altro per partire e deve di nuovo avvicinarsi a queste aree che, come vi ho detto, sono importanti perché se violate ci permetteranno di provare a risalire soprattutto la media mobile, appunto quella in rosso. E poi guardando l'inverso, tra le tante cose che si potrebbero dire su questo grafico, anche qui abbiamo chiuso un t-5 inverso. Da questo massimo è partito l'altro, e se dovessimo tornare sopra questo massimo, sopra quello a 27.537 dollari, andiamo a chiudere due t-5 inversi, ma bisogna vedere come vogliono chiuderli. Se vogliono chiuderlo così, o se vogliono chiuderlo così e poi farne partire un altro, fare partire un altro t-4 inverso. Se vogliono fare così, o se scenderanno, ok? Sono sempre scomponibili i nostri cicli. Quindi facciamo sempre attenzione a guardare anche i sottocicli e ad unirli allo studio delle candele giapponesi. Questa è una candela di spinta, se però non arrivano i verumi, non rimbalziamo adesso, per adesso abbiamo una candelina verde, piccola però, è un inside per ora, per cui incertezza. Se invece iniziasse a spingere è differente. Ci sono tante cose che si vedono, ok? In ogni caso, ritorniamo al nocciolo della questione. Se andiamo a violare questo minimo, dura che si torni qua sopra, ok? Sopra quel massimo lì. Se invece iniziassimo a riprendere volumi, a rialzo, ritornando sopra la media mobile e poi spingendo su per la cumo, a quel punto potremmo vedere qualcosa di interessante. Anche perché qua abbiamo chiuso un 1, 2, 3, un t-1, è per questo che è arrivato, dopo un tre tempi, che è arrivata una discesa più forte, perché sta partendo un altro t-1. E ci sta un t-1 a partire ancora da questo t settimanale? Come forma generale ci siamo? Sì, assolutamente. Abbiamo avuto un vincolo, poi siamo scesi, ma non siamo scesi sotto il massimo dell'inverso. Ve lo faccio vedere come lo vedo io. Questo è il massimo dell'inverso. Poi vincolo, e qui non siamo risaliti sopra il massimo dell'inverso, ok? Adesso lo rigiro. Dato che non siamo saliti sopra il massimo, ovvero non siamo, guardando l'indice scesi sotto questo minimo, e non siamo per ora scesi sotto questo, è l'ipotesi di avere un secondo t-inverso ancora in essere e con una possibilità di ritornare qui sopra e sempre in essere, ok? E lo è per, ribadisco, il tempo per noi, il tempo è chiave. E noi abbiamo ancora 4 giorni per provare al massimo ritornare sopra questo massimo, ok? Per il resto, operativamente, iniziamo ad osservare questo minimo, la media mobile, e fare attenzione a swing e vincoli, perché qui non è stato violato nessuno swing per far partire un terzo t-3, e siamo ancora nell'alea delle 44 barre di durata del secondo t-3. Se questa analisi vi è piaciuta, mettete un bel like, consigliate il canale a tutti gli amici e vi ringrazio per la marea di like che sono arrivati sotto il precedente video di Bitcoin. Non so se ci sia un errore o qualche cosa, ma nel caso, grazie, perché sono veramente tanti e sono una bella pacca sulla spalla per chi lavora anche gratuitamente per tutti alle 23.16 della notte. Buona serata!